Amici dell'Orienteering, oggi è tempo sì di Orienteering ma a due ruote! Ti fai male con quel rocchello! Chi sono i protagonisti di oggi? Io spero nel Luca Dallavalle, Dal Follo, Debora, dopo gli altri gli faccio gli auguri a tutti che venga il migliore! Il tuo legame con l'Italia è stretto, oggi ti abbiamo visto con una maglia azzurra! Eh sì, questo è un regalo dal Luca Dallavalle, quasi sempre domenica, io faccio con questa maletta nazionale italiana! Sì, sono contento, oggi era una gara molto dura, sia fisicamente che anche tecnicamente, è venuto fuori il ritmo e ho fatto una bella gara! Ieri sul podio con tua mamma! Strano, però va forte, anche perché non è più una giovincella! Vai Marika! Grazie a tutti! Grazie a tutti!